ciao da fatina bilicchina e spingy picchio guardate qui cosa abbiamo i nuovi kinder sorpresa le scatoline con tre ovetti e adesso abbiamo le nuove sorprese sono optos families e le power puff girls guardate un po allora noi le abbiamo già mangiate vero? abbiamo trovato le prime due sorprese quindi abbiamo trovato l'ippopotamo superman qui c'era anche il grattacielo e poi abbiamo trovato come si chiama questa? la scimmia? il mago scimmia ah il mago scimmia ora vi facciamo vedere qui dietro allora questi li abbiamo appena comprati perché le altre due scatole spingy picchio se le è già mangiate tutte tutti gli ovetti da come ho detto sembra che ti sei mangiato anche il cartone allora si qua vedi ecco allora uno su tre the apples family e noi abbiamo trovato lì e noi abbiamo trovato lui superman però c'è anche la ballerina c'è anche lo sportivo e poi ovviamente negli altri due si trovano le classiche sorprese invece invece in questo qua e giriamo ecco qui the power puff girls e uno su tre si trova ne abbiamo trovato la scimmia però se ne possono trovare anche altri anche le bamboline ecco qui allora in teoria questi sono quelli per i maschi boys e questi sono quelli per le femmine quindi non vi resta che andare al supermercato a fare la spesa e chiedere alla vostra mamma al vostro papà e ai vostri nonni di comprarvi i nuovi kinder sorpresa bene aspetta perché li abbiamo scambiati il mago scimmia va di qua e superippo va di qui bene buon kinder sorpresa a tutti ciao ciao da fatina pirichina e pinkie picchio ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.